il tutto del mio trucco è veramente molto molto sempre ad avvicine di una sacolina come questa che trovate benissimo nei negozi di magia è un mazzo di carte per vedere ma è un mazzo di carte qualunque beh no è un mazzo di carte truccato da qui poi si capisce tutto se mettete qui il mazzo per così sembra un normalissimo mazzo di carte anche da dietro perché c'è in tutta una coppia per fare il tutto fate vedere che c'è una carta che potete mettere qui tanto la trovate sempre dentro poi chiudete il mazzo e lo girate così la pancetta per aprire che resta il messo sinistro mettete e poi vedete che c'entra coprite tirato lo fate entrare semplicemente e il trucco è fatto poi se non avete capito basta vedere che se ne arriviamo giù abbiamo qui il mazzo di carte poi allora guardate il prossimo video ciao